L'Istituto Agliotti organizza un incontro il 28 maggio dalle 16.30 in occasione della giornata mondiale del gioco sul tema giocare crescendo, crescere giocando. Come è nata questa iniziativa? Allora questa iniziativa è nata perché per noi il gioco è una parte fondamentale dell'educazione. Iniziamo dal nido e all'infanzia facendo apprendere ai bambini giocando come modalità e dal gioco siamo convinti che si continua ad imparare anche quando siamo adulti. Ce ne scordiamo forse un pochino troppo spesso e alla primaria è un momento fondamentale per capire che anche giocando si possono imparare cose importanti e che molte cose si imparano proprio attraverso il gioco. Ci interessa che loro capiscano che anche momenti di intervallo, di doposcuola possono essere utilizzati e coperti da attività organizzate anche divertenti, anche proprio in ambito di gioco, ma che questo comporta comunque e ha una valenza comunque di tipo educativo. È importante diciamo che nel mondo della scuola si realizzino iniziative come questa, peraltro proprio in occasione della giornata mondiale del gioco. Sì, abbiamo deciso di sfruttare questa ricorrenza, questa opportunità per organizzare qualcosa di un pochino più strutturato per cui andremo a lavorare la mattina nelle classi, in tutte le classi della primaria. Ogni classe farà delle attività particolari e poi dopo magari Maurizio spiegherà meglio, faranno delle attività particolari legate proprio all'utilizzo anche di giochi passati un pochino in secondo piano o dimenticati. E lo stesso nel pomeriggio invece ci sarà un webinar aperto a tutti in cui adulti e ragazzi possono, grazie anche alla presenza di alcuni esperti del settore, possono capire e imparare proprio come è possibile giocare imparando e imparare giocando. Come è strutturato il programma dell'iniziativa? Abbiamo preso la palla al balzo per festeggiare con i bambini e le loro famiglie la festa mondiale del gioco del 28 di maggio. Io effettuerò un intervento ludico ricreativo in ognuna delle cinque classi, dalla prima alla quinta, proponendo dei giochi lignei, metallofoni, statici e dinamici, competitivi e collaborativi. Cercheremo di spiegare ai bambini che è quasi sbagliato pensare al concetto di gioco esclusivamente legato a loro e che è anzi molto importante, molto bello e molto educativo pensare ai genitori, agli adulti che possono imparare e giocare con loro divertendosi. Concluderemo quindi il pomeriggio cercando di andare a parlare degli aspetti anche più teorici di quello che invece è stato il percorso pratico della mattina. Quindi immaginatevi che, tempo permettendo, questi cinque gruppi classe avranno l'opportunità di cimentarsi a squadre, singolarmente, a coppia e cimentarsi alzando l'asticella, proprio gareggiando contro se stessi. Ci sarà un approccio completamente interattivo, quindi tenderemo sempre a proporre qualcosa che sia un'esplorazione. Un gioco chiaramente di gomma, un gioco di plastica, non può dare le stesse emozioni di giocare con un gioco di legno, un gioco metallofono. Si può giocare con il nostro corpo, si può giocare con una foglia, si può giocare con una corteccia e la parola d'ordine sarà praticamente allenamento. Nel senso, un muscolo come quelli del corpo devono essere allenati in palestra. La fantasia, l'immaginazione e la creatività devono essere allenate in un altro modo, quindi andando a stimolare tutto ciò che è la creatività, tutto ciò che è la creazione di nuove forme di oggetti, di nuove forme di colori, di nuove forme di gioco. A chi è rivolto in particolare questo webinar? Il webinar è aperto a tutti. Tendenzialmente noi puntiamo a coinvolgere i ragazzi stessi della mattina, i loro genitori, tutte le colleghe e i colleghi dell'istituto. Però visto che i quattro docenti sono comunque di fama nazionale nelle varie micro aree dell'argomento, credo che non mi meraviglierei se poi venissero tra i partecipanti anche ragazzi interessati a certi percorsi di tipo universitario o laboratoriale. Mi vengono a mente alcune associazioni cooperative e consorsi che proprio nel tessuto territoriale di Arezzo lavorano con la geriatria, con la disabilità, piuttosto che l'inclusione con gli stranieri. Grazie. 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 Grazie.